Buongiorno e ben ritrovati, oggi andremo a vedere come utilizzare il transistor BJT in switching mode, quindi come interruttore andando a simulare la chiusura dell'interruttore con la saturazione, quindi interruttore chiuso, mentre l'interruttore aperto nella zona di interdizione. Ma prima, se sei uno studente e hai bisogno di un ripasso, se sei stato assente alle lezioni, oppure devi recuperare un debito, o sei un collega e ti serve qualche idea per gli esercizi da proporre, allora iscriviti al canale e clicca la campanellina per rimanere sempre aggiornato su ogni nuovo video. Bene, ritorniamo al nostro esercizio. Allora, in questa configurazione vediamo il BJT, nella configurazione a emettitore comune, quindi l'emettitore direttamente collegato a massa e pilotato da una tensione d'ingresso. La tensione d'ingresso, affinché il BJT lavori come switch, deve avere sostanzialmente due valori che mi permettano di farlo andare in saturazione con uno e in interdizione con l'altro. Supponiamo, ad esempio, che WIN possa assumere il valore, sicuramente 0, o ad esempio WIN uguale a 5V. E andiamo a verificare che lo 0 faccia veramente andare il BJT di interdizione e il 5V lo faccia andare in saturazione. Ovviamente, usato come switch, dobbiamo assolutamente evitare la zona centrale, che è la zona attiva dove c'è l'amplificazione. Poi veremo altri esercizi invece in cui dobbiamo andare ad avere il punto di lavoro qua. Quindi i nostri due punti di lavoro dovranno andare uno nella zona di interdizione e uno nella zona di saturazione, rispettivamente con questi due valori. e supponiamo poi, ad esempio, di avere come valori del circuito avere una RC di 2k, 2kΩ, e una RB di 20, in genere come rapporto una 10 volte l'altra. L'RB ovviamente deve limitare il valore della corrente IB sulla base, quindi in genere è ovviamente molto più grande. E supponiamo di avere un HFE, un guadagno statico di corrente, pari a 100, che è un valore standard, accettabile. Allora, partiamo per prima cosa con vedere che cosa succede nel caso la tensione d'ingresso sia 0, che è il caso più immediato. Allora, quando... Allora, quando... Tolgo... Allora, quando... Win è uguale a 0, che cosa succede? Allora, qua è come se su RB, in questa parte qui, andasse direttamente... Qui fosse un filo che andasse direttamente a massa. Quindi, ovviamente, in questo caso qua, la corrente IB è uguale a 0. Non circola corrente. Se IB è uguale a 0, va da sé che anche IC, che è HFE IB, è uguale a 0. Con IC uguale a 0, ovviamente, quindi in questo ramo non circola corrente, e quindi la caduta di tensione su RC sarà nulla, e quindi la nostra VCE tra collettore e emettitore del BJT sarà pari alla tensione VCC, e quindi in questo caso a 12 volt. Quindi avrò il mio punto di lavoro che è da qualche parte qui, supponiamo che sia qua, ad esempio, il 12, quindi avrò un punto di lavoro, lo disegno in azzurro, e lo chiamiamo 1, ad esempio, P1, P1, e P1, appunto, coordinate P1 avrà come coordinate 12 e 0. poi vediamo cosa succede, invece, questo è il caso più semplice, quando invece abbiamo VIN uguale a 5, perché dobbiamo verificare che vada in saturazione, che non sia per caso in una zona che non vogliamo, e quindi abbiamo quando VIN è uguale a 5, che cosa succede? Allora, suppongo che sia in saturazione, quindi sostanzialmente vado a supporre una condizione e poi a verificare che veramente sia in quel modo. In che modo? Allora, vado a vedere la maglia d'ingresso qua, quindi qua avrò VIN 5, quindi se io faccio un giro di maglia, qui avrò praticamente qua 5, qua la caduta di tensione su RB, e qua poi la VBE. Quando qua ho 5, sicuramente il transistor conduce, devo solo andare a vedere se è in saturazione o cade in un'altra zona, quindi la mia VBE sarà sicuramente 0,7, che è quella di conduzione. Quindi, se io vado a fare un giro di maglia di questa parte qua, vado a ricavare praticamente la tensione su, quindi su VRB, VRB, io vado a fare VIN meno la VBE, e quindi se è 5 meno 0,7, avrò 4,3 volt. Da questa posso andare a ricavare la IB, quindi per ricavare la IB vado a fare semplicemente VRB fratto RB. Quindi 4,3 fratto 20K, quindi mi viene 0,215 mA. Poi vado a guardare invece il ramo qua, il ramo di uscita, quindi vado a vedere quanto vale la IC, e quindi supponendo la saturazione, allora, supponendo la saturazione, avrò VCE che è uguale circa a 0,2, anche trascurabile, ma comunque mettiamo un valore piccolino, e quindi avrò la VRC che sarà VCC meno VCE che in realtà è un VCE SAT perché quindi sarà 12 meno 0,2 quindi sarà 11,8 volt. Poi da qua vado a ricavare la IC quindi C sarà uguale VRC fratto RC di ohm quindi 11,8 fratto 2K e mi viene 5,9 mA ora devo verificare allora affinché sia verificata la saturazione deve essere soddisfatta la condizione allora la condizione che IB sia maggiore sia maggiore di IC fratto HFE quindi questa è la condizione che io devo verificare affinché ci sia la saturazione quindi qua vado a verificare quello ho sia IB che IC quindi vado a vedere e vado a sostituire effettivamente allora IB è 0,215 milli è maggiore di 5,9 milli fratto HFE che è 100 quindi uguale 0,059 milli ampere sì effettivamente questa è valida e quindi ho confermato di essere in saturazione in che punto sono della saturazione allora andiamo a vedere avrò qua un valore 0,2 quindi qua avevamo 12 quindi saremo appunto molto molto bassi segnale ad esempio qua con un IC mettiamo poi anche una scala facciamo una scala qui abbiamo detto 12 quindi qui avremo 6 3 1,5 0,8 0,75 quindi qua avremo un punto così e qua ad esempio possiamo metterlo dove vogliamo la scala 5,9 ad esempio facciamo conto di essere qua facciamo conto di essere in un punto qua non proprio sull'asse però quindi punto P2 P2 avrà per coordinate 0,2 virgola 5,9 mille lo lascio indicato così 10 per 10 a meno 3 e quindi questo sarà il mio punto di interdizione e punto di saturazione per quanto riguarda l'andamento avremo appunto l'andamento della tensione di uscita quindi della VCE che varia tra questi due valori quindi avrà un valore sostanzialmente di 0,2 quando siamo in saturazione e in di 12 quando siamo in interdizione e questo in realtà è proprio un comportamento come uno switch come un interruttore perché vediamo che quando è in interdizione quindi quando qua è un aperto l'uscita che viene presa sul collettore è pari a 12 quindi qua rimane aperto e quindi semplicemente qui l'IC è 0 e quindi qua si ha la tensione di alimentazione mentre quando il transistor è chiuso abbiamo comunque il passaggio di corrente qua e praticamente a parte quegli 0,2 che si tiene la VCE su C arriva la massa e quindi va a 0 e quindi questo rimane chiuso portando l'uscita a 0 bene spero di essere stata chiara nella spiegazione se è così mettete un mi piace e ci vediamo domani per un altro svolgimento un altro esercizio un altro esercizio